Domani, giovedì 17 marzo, verrà pubblicato il bando numero 10 per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel Comune di Biella durante il periodo di efficacia della graduatoria. Il bando generale è lo strumento per selezionare chi ha titolo nell'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sulla base della situazione familiare, del reddito e degli abitanti. Possono partecipare al bando tutti i cittadini che siano residenti o prestino attività lavorativa da almeno 5 anni nel territorio regionale, con almeno 3 anni in uno dei comuni posti nell'elenco. Per l'inserimento della domanda che va presentata esclusivamente online dal 17 marzo al 30 aprile si deve accedere attraverso lo sportello unico digitale, autenticandosi con il sistema pubblico di identità digitale, SPID. Per informazioni e chiaramenti comunque è possibile telefonare all'ufficio politiche abitative del Comune di Biella oppure inviare un mail sempre all'indirizzo del Comune. Trattandosi di una nuova modalità sarà anche attivo un supporto al cittadino per la compilazione della domanda.